Mi senti Riccardo? Sì, allora c'è... Approfittiamone per tornare in diretta che c'è un gran lancio di Bernardeschi per Ronaldo che è solo a posizione regolare. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! La prima volta in bianco-nero. Mette la palla all'incrocio, batte Loria, freddissimo, su una splendida sventagliata di Federico Bernardeschi. Buono il controllo, freddezza glaciale. 1-0 per la Juve sulla primavera. Inevitabilmente Cristiano Ronaldo a portare in vantaggio i suoi. Ci aveva provato con un sinistro alto poco fa. Ci è riuscito dopo neanche dieci minuti. Gran palla di Bernardeschi, gran movimento di Ronaldo che aggiusta il pallone e con tutta calma lo sbatte all'incrocio. Dove Loria non può arrivare. Juve 1-0, primavera 0. Il gol di CR7, dopo neanche dieci minuti.